Che cos'è un'endoscopia con capsula wireless? Una capsula endoscopica wireless è una procedura medica diagnostica che viene utilizzata per esplorare il tratto gastrointestinale, inclusi esofago, stomaco, duodeno e colon. L'endoscopia con capsula wireless consente al paziente di ingoiare una capsula in cui è posizionata una mini videocamera che registra le immagini del tratto digestivo. L'endoscopia a capsula wireless fornisce un importante vantaggio rispetto a metodi simili di esplorazione del tratto digerente, in quanto può essere utilizzato anche per visualizzare l'intestino tenue. Prima che un paziente ingerisca una fotocamera endoscopica con capsula senza fili, deve sottoporsi a determinate procedure, o prendere certe pillole, per garantire che il tubo digerente sia privo di cibo e sia il più pulito possibile. Questo è importante perché garantisce che la fotocamera sia in grado di registrare immagini chiare. Per pulire la distesa digestiva il paziente può essere chiesto di usare pillole lassative o purgative e sottoporsi a un clistere. Durante la procedura di endoscopia con capsula senza fili, il paziente ingerisce una capsula leggermente più grande di quelle normalmente utilizzate per i farmaci. Insieme alla mini videocamera, la capsula contiene batterie, una lampadina e un trasmettitore radio. L'unità registra le immagini mentre si muove attraverso il tratto digestivo e queste vengono trasmesse a un ricevitore che il paziente indossa mentre la capsula funziona. La procedura durerà circa 24 ore, dopodiché le foto verranno scaricate su un computer per la revisione. Una volta che il paziente ha passato la capsula, viene semplicemente lavata via, le capsule non vengono riutilizzate. La capsula endoscopica wireless può essere utilizzata per diagnosticare una serie di disturbi del sistema digestivo. Questi includono diversi tipi di cancro, tra cui il cancro del piccolo intestino, il cancro alcolene e altri tumori del tratto gastrointestinale. La malattia di Crohn, la colite ulcerosa, le ulcere gastriche e altre malattie dell'intestino irritabile possono essere diagnosticate anche con questo metodo. Nonostante l'utilità di questa procedura, l'endoscopio a capsula wireless presenta alcuni limiti e inconvenienti. Uno dei problemi più significativi è che l'uso di questo strumento non consente di eseguire procedure terapeutiche. Durante una colonoscopia standard, ad esempio, un medico può prelevare campioni di biopsia se necessario, ma ciò non è possibile quando si utilizza un endoscopio o capsula wireless. Un altro svantaggio distinto è che la capsula si muove lentamente ma costantemente attraverso il tratto digestivo in circostanze normali. Ciò non consente che il medico debba osservare più da vicino aree in cui possono essere presenti segni di malattia. Un problema correlato è che il movimento della capsula potrebbe essere troppo lento e le batterie nell'unità potrebbero guastarsi prima che la capsula sia in grado di esaminare l'intero tubo digerente. I pazienti che hanno subito un intervento chirurgico o una malattia che può aver causato cicatrici interne possono essere soggetti a un ulteriore problema. La presenza di cicatrici può causare il blocco della capsula, in particolare nell'intestino tenue, che è molto più stretto rispetto al resto del tubo digerente. In questi casi ai pazienti viene chiesto di ingoiare una capsula vuota come prova per assicurarsi che la telecamera sia in grado di muoversi correttamente.